Però, volevo ricordare con un minuto di raccoglimento, i martiri di Pietrarsa. Ieri ricorre la commemorazione del 6 agosto 1863, sono stati ammazzati i primi operai nella storia che hanno perso la vita per difendere un posto di lavoro. Noi festeggiamo il 1 maggio, ma i primi morti ammazzati per difendere un posto di lavoro sono stati a Pietrarsa, 6 agosto 1863. Quindi un minuto di raccoglimento per ricordare queste persone. Grazie. 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 Grazie.